Noi stiamo vedendo il trailer di un film dell'orrore. Lo dico senza polemiche in quest'Aula. Ma quanto tempo si è discusso di Novax? Quante volte si è messo in discussione la qualità degli studi scientifici, personalità come Roberto Burioni minacciato con i manifesti delle Brigate Rosse nel 2017 e nel 2018? Quante volte qualcuno ci ha detto che si sarebbe potuto affrontare le grandi sfide senza andare a rincorrere la scienza o addirittura con i Novax? Quello che stiamo vedendo in queste ore è il trailer di un film dell'orrore che è il mondo senza vaccini. E lo dico con rispetto ai sovranisti. Quante volte ci hanno detto staremo meglio eliminando Schengen, staremo meglio blindando le frontiere, staremo meglio ognuno a casa sua. Le nostre città muoiono senza i turismi, le nostre solitati turisti, le nostre aziende muoiono senza esportare, muore il Veneto se non esporta, muore l'Emilia-Romagna se non esporta. Il trailer di un mondo sovranista è un trailer che fa paura.